Grazie mille, voglio ringraziare tutti qui che ha fatto questo possibile, io voglio fare l'arte messicana sul nostro, tra tutto il mondo, sono emozionata di essere qui perché io ho studiato in questa città, in questa città mi ha fatto tante cose che mi hanno fatto crescere, io voglio crescere, ringraziare anche a tutta la gente, a me, siccome ha fatto questo possibile, grazie mille all'estate di Jalisco perché mi hanno fatto conoscere di tutto il mondo, con il mio altro, grazie mille.